I rifiuti da emergenza a risorsa attraverso l'economia circolare. Attorno a questo tema a Crotone, nella Sala Paolo Borsellino della provincia, si è discusso nel corso di un incontro promosso dal lato provinciale d'Arcipelago Scec, associazione senza scopo di lucro, da sempre impegnata a promuovere l'economia locale attraverso comportamenti virtuosi di economia circolare. La riduzione dei rifiuti, riutilizzo dei rifiuti, riuso, è tutto quello che serve per ridurre completamente, compresa la prevenzione, quello che viene mandato in discarica. Noi dobbiamo pensare anche che questo è un processo che non avverrà in molto tempo, ma è un processo che avviene anche molto velocemente. Al convegno crotonese ha partecipato Maurizio Vinci, portando la sua testimonianza. È un ricercatore, ma anche un inventore. Da oltre vent'anni, studia il riutilizzo dei rifiuti. Recentemente ha brevettato un sistema di recupero di tutte le frazioni dei rifiuti organici, elettronici, polimerici, come plastiche e gomme. Se parliamo della plastica e parliamo del legno, trattandoli in prima battuta come se fossero similari, e allora se smontiamo la plastica non troviamo più quel sistema che mi occupa un sacco di spazio e pesa poco e soprattutto separando opportunamente otteniamo dei sottoprodotti che possono materialmente essere riprodotti, come dicevamo, perché dal polimero torniamo al monomero e dal monomero ritorniamo al polimero. La questione dei rifiuti è il problema dei problemi anche a Crotone. L'amministrazione guidata da Vincenzo Voce lo sa bene e sin dal suo insediamento sta cercando di affrontarla. Già dalla campagna elettorale ha rappresentato un tema centrale. Il sindaco sottolinea che è necessario dotarsi di un impianto. Che occorra un impianto di compostaggio o un impianto di trattamento della fazione organica quello è fuori dubbio. Il problema è che una parte dei rifiuti, per quanto possa essere spinta la raccolta differenziata, necessariamente deve essere o termovalorizzato, bruciato, o deve andare in discarica o deve andare in un impianto di pirulisi. Impianti che è il motivo dell'incontro di oggi di pirulisi che allo stato attuale non è che abbiano una grande presa in Italia. Per cui questo è un problema e vediamo come affrontarlo.